Buonasera a tutte ragazze. Allora questa sera sono in veste un po' diversa. Voglio farvi vedere un video acquisti. Ho ricevuto questa mattina il pacco da semplici bijoux appunto come vedete e vorrei mostrarvi quello che io ho acquistato. Devo dire che sempre con molta felicità perché ogni volta che deve arrivare un pacco io soffremo sempre non so voi. Poi René è così carina che veramente insomma per qualsiasi cosa è gentilissima e bravissima anche fare queste queste cose. Adesso vi mostro i kit che ha preparato per degli anelli che sono fantastici devo dire bellissimi. Vi mostro subito. Allora sono i kit degli anelli dell'anello trilogy e sono A, B, C e D e ad ogni busta ci sono due kit per fare due anelli in pratica. Adesso vi mostro più o meno. Ops scusatemi ecco nella kit A ci sono questi due color tanzanite e capriblu per fare due anelli. Non vi tiro fuori tutto perché sarebbe troppo lungo il video poi. Comunque sono bellissimi devo dire che sono meravigliosi. Questo è per quanto riguarda l'anello A. L'anello B in trilogio B contiene questi. L literacy non so come si dice. E Olivan e Olivan.értomen non lo so. E questo è il contenuto io per l'inglese non sono molto esplicita ma non sono molto brava ecco qui questo è il contenuto e devo dire che sono fantastici anche questi si vedono appena dentro i chaton sono fantastici questo è il modello b il modello c è questo black day a diamond e fucsia vedete quasi intravede degli chaton sono stra bellissimi questo è più scurito ma è carinissimo bellissimo e questo è il contenuto della busta c per ultimo il modello di modello di contiene questo emerald e turquoise vedete che guardate che belli bellissimi guardate belli 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 vi consiglio di acquistarli perché sono fantastici e questo il modello di poi ho acquistato dei rivoli questo che adoro adoro immensamente questo proprio mi piace mi piace tantissimo sono da 12 mm cattedrale credo si dica due pezzi bellissimi poi ho preso questi da 16 peri dot credo si dica poi quest'altri sempre peri dot però sono normali non sono ab sono 4 confezione da 4 da 14 mm sono bellissimi poi ho preso blu zircon sempre da 14 mm ma guardate questo colore mamma mia questo lo voglio aprire lo voglio vedere perché non l'ho ancora aperto nulla quindi sto vedendo tutto quasi con voi l'ho aperto per però non ho aperto nessuna bustina guardate no va bene è fantastico questa luce artificiale poi non rende ma vi assicuro che è bellissimo poi ho preso questi chaton piccolini questi quadrati di mocia da 10 mm borgondi guardate che colore fantastici sono sempre 4 poi ho preso questi mamma borgondi no questo lo apro questo lo apro insieme a voi perché veramente merita proprio di vederlo dal vivo vediamo guardate mamma mia no va bene ha dei colori bellissimi guardate che meraviglia belli 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 quindi dicevo da 14 mm rivoli in cristallo mocia borgondi a b e poi andiamo con i quadrati sempre da 14 che non li avevo avevo quelli da 12 e cristallo a b eccolo qua bellissimo guardate poi questo l'ho ripreso perché mi serviva sempre da 14 a sempre da 14 perché non ce li avevo questi qui quindi sono stra bellissimi ho fatto un bracciale ultimamente bello 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 sempre a b poi c'è questo verde che è fantastico sempre per i dot da 14 poi ancora un borgondi da 14 un quadrato però questa volta guardate sempre a b fantastico e questi quadrati che non avevo sapphire ma guardate che finitura che hanno guardate questo anche lo apriamo perché sono curiosa di vedere che come con la luce guardate la finitura dietro guardate vogliamo dire qualcosa a questo cristallo veramente veramente bellissimo mi piace tantissimo e questi abbiamo detto che sono i sarfire a b poi passiamo alle vb duo crystal capri gold da otto millimetri a otto per otto eccola qua bellissime ancora le vb duo white lilla gold luster bellissime guardate delle belle belle poi delle gem duo ho preso questi perché avevo la curiosità di vedere questa finitura che è fantastica è particolare questo è il nome sempre a b da 5 grammi guardate che belle bellissime poi ancora le gemme duo di questa finitura pollo gold guardate fantastico e poi queste perché ho in mente di fare qualcosa vediamo un orange non riesco a leggerlo con la telecamera comunque eccolo qui sempre 5 grammi poi ho preso delle super duo che non avevo qui purtroppo ho dovuto mettere povera rené magari andava di fretta ho dovuto metterlo io perché si è dimenticata di mettere la la fascettina della della dimostrazione del insomma del prodotto quindi questo è matte gris e bronze brown no bronze brown è bellissimo questo è il codice comunque se volete è bello è veramente bello ha dei colori fantastici pure questo poi ho preso queste va bene perché servono sempre a volte e poi questo verde che non avevo olive bello è bellissimo poi ho preso dei cipollotti petrolio molto molto bello devo dire la telecamera non lo rende veramente cioè per lo meno la luce artificiale non la rende ma è bello 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 è una B bellissimo e per finire ho preso delle drop duo questa colore qua è un matte belle e poi ah no per ultimo manca questa che questa qui questa tibare questa chiusura tibare molto bella l'ho usata per un bracciale che sta all'interno di youtube che si vede cioè il bracciale Nuria ed è bellissima devo dire fantastica su quel bracciale quindi l'ho ripresa perché ne avevo una sola e quindi per non restare senza perché molto bella vedete che poi René non si smentisce mai mi ha mandato degli omaggi eccoli qua questi cipollotti quattro per tre non c'è la la litichetta belli eh a b credo siano pure questi e poi mi ha mandato una catena bella poi mi ha mandato delle miyuki 8.0 guardate che bella adesso viene il natale insomma il rosso serve sempre delle gocce bellissime e altre 8.0 guardate così si fa qualcosa insomma cioè sì la scelta è è giusta ci sta bene tutto guardate sta bene anche così eh quindi queste altre 8.0 e questo è il regalino che mi ha mandato anzi un regalone che mi ha mandato René quindi ragazze questo è tutto spero di essere stata chiara di non aver dimenticato nulla ma mi sembra di no e consiglio vivamente questi kit di anelli trilogy perché sono veramente fantastici io sono in attesa del del tutorial perché li voglio fare proprio tutti 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 infatti ho preso tutti i kit e non me ne vogliate se non li trovate perché poi vanno a ruba quindi vi dovete proprio sbrigare dovete fare in fretta perché sennò non li trovate detto questo io vi do un grande saluto grazie per aver guardato il mio tutorial e a presto vi do un saluto a tutte ciao ciao ciao